Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Nevica in Abruzzo sul massiccio del Gran Sasso a partire dai 1600 metri e è accaduto ieri. In località Prati di Tivo, nel comune di Pietra Camela, sul versante Terramano, la quota neve si aggira intorno ai 1700 metri, prevista in calo nelle prossime ore. Attualmente a Campo Imperatore, a quota 2100, ci sono circa 10 centimetri di neve. La temperatura è scesa ieri fino a meno uno. Il resto della regione è interessato da abbondanti piogge, ma come vedremo più tardi nelle previsioni del tempo, il meteo è previsto in miglioramento. Nuovi limiti di velocità da oggi sull'asse attrezzato che collega l'area metropolitana di Pescara con quella di Chieti. Con un'ordinanza, l'ANAS ha reso nota all'istituzione dei limiti massimi di velocità sul raccordo autostradale numero 12 Chieti-Pescara e sulla statale 16 direzione C del porto di Pescara. Nei pressi dei centri abitati della città di Chieti e Pescara, il limite è da non superare di 40 km all'ora. In altri tratti, la velocità massima consentita è di 70 oppure 90 km orari. Fino ad oggi la velocità massima era di 110 km all'ora. La popolare trasmissione TV Leiene ha mandato in onda ieri sera un servizio sull'inquinamento nelle acque del mare di Pescara. Nel servizio le dichiarazioni di alcune persone che hanno lamentato malori a se stessi o ai propri figli, sostenendo che gli stessi sarebbero legati al bagno fatto lo scorso anno quando ci fu, lo ricorderete, il caso dell'ordinanza fatta in ritardo col divieto di balneazione. Nel servizio anche l'intervento dell'ambientalista Augusto De Sanctis e la replica del sindaco Marco Alessandrini, secondo cui si è trattato di una disfunzione istituzionale. È prevista per il 30 novembre prossimo la decisione del giudice unico per le indagini del Tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea sulla vicenda relativa ai tetti di spesa delle cliniche private per l'anno 2010, che conta tra i cinque imputati l'ex presidente della regione Abruzzo Gianni Chiodi, l'ex subcommissario Giovanna Baraldi e l'ex assessore regionale Lanfranco Venturoni. L'udienza di ieri è stata rinviata al mese prossimo per la discussione delle parti e la sentenza. Nel procedimento sono imputati anche due tecnici dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Regionali. Nel mirino della procura c'è il ridimensionamento dei tetti di spesa. Senza alcun titolo accademico, due odontotecnici avevano trasformato la loro attività in uno studio dentistico ed eseguivano pratiche ortodontiche sui pazienti. I carabinieri del NAS di Pescara però li hanno scoperti. I due sono stati denunciati per esercizio abusivo della professione odontoiatrica e l'ambulatorio in cui operavano è stato sottoposto a sequestro, così come le attrezzature e le strumentazioni. Il tutto è accaduto a Pescara. Presentato il progetto del Comune di Pescara rivolto ai giovani da inserire nel Servizio Volontario Europeo, programma Erasmus+. Il progetto rappresenta per i giovani l'opportunità di svolgere un'attività di volontariato in un paese del programma o al di fuori dell'Europa, detto l'assessore Laura Di Pietro. È un'esperienza di apprendimento interculturale in un contesto non formale, promuove l'integrazione sociale e la partecipazione attiva dei volontari coinvolti in molteplici settori, dalla cultura allo sport, dall'assistenza sociale all'arte, protezione civile, ambiente, sviluppo cooperativo, e altro ancora. I giovani possono svolgere un'attività di volontariato in un paese del programma o al di fuori dell'Europa, per un periodo che va da due a dodici mesi impegnati come volontari europei in progetti locali. La Fondazione Edoardo Tiboni per la cultura e i premi internazionali Ennio Flaiano ricordano il grande regista polacco Andrei Vaida, morto all'età di 90 anni e vincitore della Palma d'Oro nel 1981 e nel 2000, premio Oscar alla carriera, conosciuto in tutto il mondo per film come L'uomo di marmo e L'uomo di ferro. Il film L'uomo di marmo del 1977 precedeva solo di qualche anno lo sciopero dell'agosto 1980 a Danzica e la nascita del sindacato Solidarnosc. Il tema, poi continuato da Vaida con L'uomo di ferro nel 1982 e con il film sul premio Nobel Lech Walesa, L'uomo della speranza, presentato nel 2013. Il grande regista fu anche autore del film Katin che racconta la resistenza polacca in un particolare momento storico contro l'armata rossa sovietica. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo nuvoloso fino a metà mattino, sereno dalla tarda mattinata alle prime ore della sera e nuvoloso in tarda serata con temperature da 11 a 15 gradi e venti da deboli a moderati. E nelle zone interne? Cielo sereno al mattino, poco nuvoloso nel primo pomeriggio, sereno nel resto del pomeriggio e nelle prime ore della sera e nuvoloso in tarda serata con temperature da 9 a 13 gradi e venti deboli. Il mare è previsto poco mosso. Ed era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne. Grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica. Grazie per aver guardato il nostro notizie.